Ai blocchi di partenza per l'anno scolastico 2014-2015, l'offerta formativa del liceo scientifico dell'ISIS Gobetti Volta di Bagnarripoli si arricchirà di un nuovo corso, il liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Già previsto nella riforma nazionale dei licei, il nuovo indirizzo sarà attivo dal prossimo settembre e l'istituto di Bagnarripoli sarà l'unico sul territorio provinciale fiorentino. Naturalmente è costruito per coloro che frequentano attività sportive, c'è una flessibilità negli orari, un percorso educativo anche molto strutturato, io l'ho visto, qui il quadro orario con gli obiettivi, quindi questo lo dico soprattutto da ex professore in sostanza, perché io al volto ho passato 20 anni della mia vita e della mia esperienza professionale come professore matematica, quindi sono molto soddisfatto. Il territorio è apertissimo e disponibile a intrecciare le proprie potenzialità con quelle della scuola. Non solo sport per i ragazzi che si vorranno iscrivere, anche le materie scientifiche saranno rimodulate sulle specificità del nuovo indirizzo. Tra le altre materie, ad esempio, nel triennio ci sarà spazio anche per diritto economia dello sport. I ragazzi vengono messi a contatto con le varie discipline sportive, sia di squadra che individuali. E' scuola, quindi non è che siamo dentro una formazione esclusivamente sportiva, siamo dentro la scuola che come obiettivo ha la conoscenza, la competenza, l'educazione.